Sport, musica, spettacolo, attualità, Cremona 1 seguirà domani con le sue telecamere tutti gli eventi che vedono Cremona protagonista. A partire dalle 13, quando in attesa del test match fra la nazionale italiana rugby e la squadra delle isole Fige in programma alle 15 allo Zini, andrà in onda lo speciale rugby in pillole con tutte le pillole dedicate a questo sport andate in onda fino a oggi realizzate dalla nostra rete in collaborazione con Cremona Rugby. Italia Figi che naturalmente seguiremo da vicino con i nostri servizi all'interno del telegiornale. Prima finestra dedicata alla festa del torrone al via domani durante il Tg delle 13 e 30 in collegamento dal nostro studio allestito nello spazio eventi di piazza Stradivari. Dalle 14 alle 17 ancora spazio al grande sport con pre partita, telecronaca in diretta dell'incontro San Marino Cremonese e commenti post partita. Dalle 17 alle 18 e 45 entreremo nel vivo della festa del torrone con la diretta dal cuore dell'evento e ancora nuova finestra sulla manifestazione durante il Tg delle 19. Musica protagonista della serata con il concerto del quartetto Guadagnini dal Museo del Violino per proseguire all'insegna dello sport con la cronaca di Bassano per Golettese. Raccontare la città attraverso i suoi grandi eventi, l'impegno di Cremona 1 e di tutto il suo staff.